Così, mentre la Sampdoria si affanna in avanti, in contropiede, Paolino Pulici coglie i frutti della prima sbadatezza della difesa sampdoriana, 1-0 per l'Udinese. Così, nel secondo tempo, mentre la Sampdoria, più che attaccare, arruffa e si fa fallosa con Bonetti, espulso per l'oppia munizione, Mauro può segnare la rete del 2-0. Scanziani, sempre lui, in azione personale, riapre a un quarto d'ora dalla fine le speranze di Sampdoriano. Ma ahimè, oggi la difesa di casa era distratta e Causio non perdona né errori né ingerire.